Oggi comincia un nuovo weekend di traffico sulle nostre autostrade. Vediamo qual è la situazione collegandoci con Alessandra Canale di Rai Pubblica Utilità. Sì, continua l'esodo estivo che si intensificherà proprio in questo weekend con spostamenti che saranno agevolati dallo stop ai camion in vigore dalle 16 alle 22 di questa sera. Molto trafficata la riviera romagnola e soprattutto trafficata l'autosole con tempi di percorrenze elevati. Complicato anche da un incidente che si è verificato proprio nel tratto tra il Bivio della 22 Modena-Brennero e il Reggio Emilia in direzione Milano. Poi abbiamo una segnalazione di una dispersione di carico tra Parma e Terre di Canossa in direzione Bologna. Come di consueto monitoriamo le immagini di Cigungoli in diretta dall'A14 all'altezza di Bologna-Fiera. Come vedete abbiamo la corsia di destra completamente congestionata e flussi veicolari intensi in entrambe le carreggiate. L'altra immagine si riferisce a Castel San Pietro al chilometro 36 sempre sulla 14 con flussi veicolari vivaci. E infine vi comunico che per lavori è chiusa la bisse tiberina tra Cesena, nord del Bivio della 14 e case murate. Grazie per l'attenzione e linea allo studio.